Io vorrei che si aprisse tutto, per esempio, no? Che si aprissero anche le scuole, per esempio. Però sono cosciente del fatto che se si facesse un'operazione del genere i morti tornerebbero sopra i mille al giorno. I conteggiati da 20.000 schizzerebbero a 35.000, a 40.000. Il sistema ospedaliero collasserebbe. Vogliamo questo? Siete degli responsabili se volete questo. Chi siete? Scusi. Siete quelli che parlano a vanvera contro il DPCM che chiude. Il DPCM chiude perché c'è gente più preparata di me che consiglia di chiudere.